ciao a tutti oggi faremo un nuovo esercizio nel quale metteremo in pratica quello che abbiamo imparato sulle maschere e in particolare maschere per ritagliare i livelli e le maschere per ritagliare gli effetti innanzitutto prima di vedere il video che dobbiamo realizzare vi ricordo che se volete usare le stesse fotografie che ho usato io potete scaricarle dal link che trovate nella pagina di questo tutorial e poi durante l'esercizio userò anche la mia palette controllo isis che vedete qua sulla destra e questa palette ci servirà a tenere sotto controllo la quantità di smorzamento dei keyframe e anche in questo caso sotto il tutorial troverete il link per scaricarvi la palette e poi se volete potete anche guardarvi il tutorial dedicato a questa palette che trovate nel mio canale eccolo qua controllo isis bene adesso vediamo un po che cosa dobbiamo realizzare come avete potuto vedere si tratta di animazioni fatte su fotografie e titoli rivediamolo da capo ecco nella prima parte realizzeremo tutte le animazioni delle fotografie e nella seconda parte invece ci preoccuperemo dell'animazione dei titoli bene quindi direi di cominciare la prima cosa da fare è fare in modo che le quattro fotografie abbiano tutte quante la stessa dimensione il metodo migliore per farlo è prendere ogni fotografia inserire all'interno di una composizione quindi incominciamo a creare la composizione che contiene la prima foto quindi vado nel menu composition new composition chiamo questa composizione foto 1 la voglio della dimensione 1920x1080 ovvero il preset hd tv 1080 25 e come durata gli do 5 secondi perché all'interno del filmato ogni fotografia non dura più di 45 secondi quindi tol'ok bene ora aggiungiamo la prima fotografia che è questa clicco il tasto s per evidenziare la scala e poi ridimensiono la fotografia benissimo ogni fotografia ha una leggera animazione sulla scala come fosse una lenta zoomata in avanti quindi adesso noi metteremo due keyframe sulla proprietà scala voglio che al tempo zero la scala della fotografia sia grande così come l'ho impostata quindi accendo l'orologio poi prendo il cursore vado in fondo alla composizione e aumento la dimensione della scala un po tipo così facciamo subito una preview per vedere se la velocità dell'ingrandimento ci basta direi che va benissimo così e quindi per la prima fotografia siamo a posto così poi quando avremo preparato tutte quattro le fotografie le inseriremo nella composizione finale e cominceremo a ritagliarle con le maschere quindi di nuovo composition new composition chiamo questa seconda composizione foto 02 gli stessi settings di prima li lascio do l'ok e inserisco la seconda fotografia che è questa di nuovo clicco il tasto s per evidenziare la scala e riduco la foto bene la sposto un poco più in alto magari e faccio di nuovo l'animazione sulla scala quindi al tempo 0 accendo l'orologio della scala prendo il cursore lo porto in fondo e aumento un poco la scala faccio una rapida preview per vedere se va bene direi di sì benissimo ora per creare la terza composizione non ripeterò tutta la procedura di prima ma duplicherò una delle composizioni che già ho e sostituirò la fotografia al suo interno e quindi vado a duplicare la composizione foto 2 che in questo momento è dentro la cartella foto quindi la tiro fuori dalla cartella foto quindi la seleziono ctrl d la duplico immediatamente after effects me la rinomina foto 03 e va già bene così solo che devo sostituire al suo interno la fotografia quindi con un doppio clic la apro nella timeline foto 3 e sostituisco con il tasto alt questa foto con la terza quindi seleziono questa fotografia prendo la terza fotografia tengo premuto il tasto alt e trascino la nuova foto sopra quella vecchia e quindi questa terza fotografia eredita anche l'animazione sulla scala vediamo sì ma come potete vedere la terza fotografia non ha la stessa dimensione della seconda foto quindi dobbiamo correggere la grandezza clicco il tasto s per evidenziare la scala e devo correggere entrambi i keyframe sia al primo sia al secondo quindi seleziono entrambi i keyframe mi metto col cursore sopra il primo keyframe e aggiusto la dimensione di partenza e questa volta la voglio un po più grande in modo da mettere in primo piano questa figura qua poi verifico che l'animazione vada bene perfetto e adesso creo l'ultima composizione quindi seleziono la composizione foto 03 nella finestra di progetto ctrl d ottengo la foto 04 doppio clic la apro nella timeline e sostituisco la foto con l'ultima che è questa tengo premuto il tasto alt e la sostituisco anche in questo caso devo correggere la scala quindi clicco il tasto s evidenzio tutte e due keyframe e poi correggo la scala di partenza e voglio che all'inizio sia grande più o meno così e la foto sia un po più in alto verifico per sicurezza che tutto vada bene perfetto perfetto bene adesso passiamo alla seconda fase cioè a quella del ritaglio delle fotografie ma questa operazione la facciamo all'interno della composizione finale quindi vado nel menu composition new composition chiamo la composizione esercizio 3 finale in modo da capire che questa è la composizione che contiene tutte le composizioni e come durata gli do 15 secondi bene e do l'ok adesso rivediamo un attimo il filmato per capire quello che succede all'inizio innanzitutto prima che entrino in scena le fotografie c'è lo schermo vuoto e come sfondo ha il colore bianco quindi anche noi dobbiamo inserire nella composizione lo sfondo bianco e per fare questo aggiungiamo un solido quindi vado nel menu layer new solid e lo chiamo sfondo bianco la dimensione deve essere identica 1920x1080 il colore bianco io l'ho già bianco quindi lascio così e do l'ok benissimo adesso torniamo a rivedere di nuovo il video allora un attimo prima che la foto entri c'è questa parte azzurra della quale ci occupiamo più tardi e come poi potete vedere la fotografia è divisa in due metà e la metà di sinistra scende dall'alto e la metà di destra sale dal basso quindi innanzitutto aggiungiamo la composizione foto 1 all'interno della nostra composizione finale bene siccome adesso voglio tagliare la foto in due parti esattamente a metà ho bisogno di avere un riferimento per capire dov'è la metà dell'inquadratura e per fare questo vado in questo menu qui in basso nella finestra del monitor clicco e attivo la voce title action safe quindi l'attivo ed ecco che ho dei segni che mi indicano la metà della composizione ce n'è uno qui c'è una croce al centro c'è un altro segno là e ci sono anche due segni qui che mi indicano la metà verticale della composizione bene e adesso posso tagliare la fotografia con una maschera rettangolare quindi la seleziono la foto vado negli strumenti delle forme prendo la forma rettangolo e taglio la parte sinistra quindi clicco trascino e mi allineo con il bordo destro con quei segni che indicano la metà bene e adesso ho bisogno di un secondo livello che contenga la parte destra e poi farò le animazioni sulla posizione e per ottenerlo rapidamente faccio così seleziono la fotografia nella timeline la duplico quindi ctrl d sul duplicato sposto la maschera a destra quindi prendo lo strumento selezione faccio un doppio clic sul bordo della maschera e trascino il lato sinistro della maschera fuori a destra a questo punto ho due livelli uno contiene la parte sinistra della foto e l'altro la parte destra per verificarlo faccio così vengo qui nella timeline spengo e accendo l'occhio dei livelli per vedere se veramente corrispondono la parte sinistra e parte destra benissimo adesso che ho le due parti farò l'animazione sulla posizione uno a scendere e l'altro a salire quindi seleziono entrambe le parti della fotografia nella timeline clicco il tasto P per evidenziare la proprietà position di tutte e due e voglio che in mezzo secondo le foto entrino nell'inquadratura quindi innanzitutto fisso la posizione finale delle due fotografie visto che sono già nella posizione corretta quindi prendo il cursore avanzo fino a circa mezzo secondo 12 frame e accendo l'orologio della position per entrambe e quindi ho fissato la posizione finale adesso prendo il cursore lo riporto al tempo 0 e sposto la parte sinistra fuori in alto e la parte destra fuori in basso faccio una preview vediamo se la velocità può andare direi di sì una cosa voglio l'easy ease voglio che il keyframe finale sia ammorbidito quindi seleziono i due keyframe e clicco il tasto F9 che mi trasforma i keyframe ammorbidendoli se faccio la preview vedo che l'animazione è leggermente rallentata alla fine però vorrei che questo rallentamento fosse un poco più intenso e per fare questo come vi ho anticipato prima uso la mia palette controllo easy ease e si usa in questo modo si selezionano i keyframe che si vogliono modificare e si assegna un valore usando questo cursore oppure scrivendo il valore nella casella di destra allora basta sapere che l'easy ease di partenza vale 33 e se si vuole rallentare ulteriormente bisogna dare in questa palette un valore superiore a 33 e nel mio caso io voglio che il valore sia intorno a 33 e nel mio caso io voglio che intorno agli 80 90 quasi il massimo e faccio una preview e vedo se mi va bene ok come potete vedere alla fine c'è il rallentamento ma è molto più visibile di prima benissimo quindi l'animazione sulle due parti della fotografia è completata adesso dobbiamo preoccuparci di questa parte azzurra che anticipa l'ingresso della fotografia come potete vedere è esattamente identica alle fotografie solo che è appunto colorata di azzurro e adesso vediamo come realizzarla selezioniamo i due livelli e li precomponiamo cioè li facciamo diventare un livello unico e per fare questo si selezionano i livelli e nel menu layer si attiva la voce precompose chiamo questa precomposizione animazione foto 1 per far capire che c'è tutta l'animazione che riguarda la prima fotografia e do l'ok adesso che ho un unico livello lo duplico quindi lo seleziono ctrl d al duplicato che sta sotto aggiungo un effetto che mi colora tutta la fotografia di un colore che voglio io quindi vado nel menu effetti la sezione generate e l'effetto è fill cioè colore di riempimento bene adesso prendo la foto che sta a livello superiore e la ritardo di qualche fotogramma in modo che se adesso noi andiamo a vedere i primi fotogrammi dell'azione vediamo che prima c'è il livello colorato di rosso in questo caso e qualche fotogramma dopo in ritardo arriva la fotografia quindi più la ritardo nella timeline e più la parte colorata sarà lunga bene adesso però cambiamo il colore quindi seleziono il livello che contiene l'effetto del colore e qui nella palette che gestisce il colore dell'effetto gli assegno un colore azzurro abbastanza chiaro e do l'ok riguardiamo il tutto quindi la fotografia è anticipata da quelle due bande azzurre benissimo e adesso faremo l'animazione sulla seconda foto quindi torniamo nella finestra progetto prendiamo la composizione foto 2 e la inseriamo nella timeline allora la seconda fotografia entra 3 secondi dopo che è entrata la prima quindi prendo la foto 2 e la sposto avanti in modo tale che cominci qui a 3 secondi bene ora devo ritagliare la fotografia in due parti e esattamente la devo tagliare in due parti in senso verticale quindi seleziono la foto prendo lo strumento maschera rettangolare ancora e la ritaglio in modo da tenermi la parte superiore ecco fino qua benissimo adesso seleziono la foto nella timeline la duplico come ho fatto prima quindi ctrl D e a questa seconda foto sposto la maschera in basso quindi prendo lo strumento selezione doppio clic e sposto la maschera in basso e a questo punto ho i due pezzi della foto sopra e sotto ora facciamo l'animazione sulla posizione di nuovo seleziono le due foto clicco il tasto P voglio che mezzo secondo dopo l'inizio cioè a 3 secondi e mezzo circa i due pezzi della foto si trovino lì dove li vediamo ora quindi accendo l'orologio a entrambi mentre voglio che quando cominciano le foto cioè a 3 secondi la parte superiore si trovi fuori a sinistra mentre la parte inferiore si trovi fuori a destra prima di fare la preview immediatamente seleziono i keyframe finali e con la palette controllo is is di nuovo gli assegno un valore anche in questo caso di 90 faccio una preview e vediamo se tutto funziona bene perfetto ora i due livelli sono già selezionati e li precompongo quindi layer precompose e chiamo questa precomposizione animazione foto 2 do l'ok di nuovo duplico questo livello CTRL D e già che ci sono ritardo al livello superiore di qualche frame tipo così e adesso coloro la copia che sta sotto quindi la seleziono e di nuovo gli aggiungo l'effetto generate fill subito si colora di rosso ma io la voglio rosa quindi apro la palette e gli assegno un rosa faccio di nuovo una preview per vedere se la velocità è giusta benissimo ritorno nella finestra di progetto e aggiungo la foto 3 alla composizione bene la foto 3 deve cominciare 3 secondi dopo la seconda e quindi comincerà a 6 secondi benissimo la foto numero 3 vediamo subito deve essere tagliata come la prima fotografia benissimo quindi prendo di nuovo la maschera rettangolare e la taglio a metà così poi seleziono il livello CTRL D lo duplico e con lo strumento selezione doppio clic sposto il lato sinistro fuori a destra e quindi io ho i due livelli a questo punto seleziono entrambi i livelli clicco il tasto P per evidenziare la position e le foto cominciano a 6 secondi e a 6 secondi e mezzo quindi deve essere completata l'animazione sulla posizione quindi a 6 secondi e mezzo accendo gli orologi della position per fissare la posizione finale dei due livelli poi torno a 6 secondi e qui invece ho bisogno che la parte di sinistra sia fuori in alto e la parte di destra sia fuori in basso seleziono i due keyframe finali e subito con la palette CTRL Easy Easy anche qui gli assegno un valore di circa 90 faccio una preview va bene così seleziono i due livelli di nuovo e li precompongo come ho fatto prima quindi layer precompose chiamo animazione foto 3 duplico la precomposizione ritardo di qualche frame il livello superiore e al livello inferiore aggiungo l'effetto fill quindi vado nel menu effetti generate fill di nuovo subito si colora di rosso ma io invece voglio giallo quindi nella palette dei colori cambio il colore in giallo ok faccio la preview e ci siamo anche qua bene adesso l'ultima fotografia torno in progetto prendo l'ultima foto la porto fino a 9 secondi e questa ultima foto deve essere tagliata andiamo a vedere come deve essere tagliata come la foto 2 quindi prendo lo strumento maschera rettangolare e la taglio così duplico il livello e con lo strumento selezione doppio clic sposto la maschera sotto poi di nuovo selezione i livelli tasto P a circa 9 e mezzo accendo gli orologi della position prendo il cursore torno all'inizio della foto esposto la parte superiore fuori a sinistra e la parte inferiore fuori a destra poi ammorbidisco i due keyframe finali anche qui circa 90 faccio la preview per vedere se la velocità è giusta ma tanto sappiamo che va bene precompongo i livelli quindi vado nel menu layer precompose e chiamo questa per composizione animazione foto 4 e do l'ok immediatamente duplico il livello lo ritardo di qualche frame e il livello sottostante lo coloro con l'effetto generate fill e in questo caso il colore lo voglio un bianco leggermente sporco quindi mi metto in questa posizione prendo il contagocce dell'effetto fill e campiono il bianco che c'è all'interno della fotografia cioè questo benissimo verifichiamo che tutto funzioni perfetto ora prima di concludere già che ci siamo aggiungiamo l'animazione sull'ultima fotografia e in questo caso si tratta di un'animazione sulla opacità e anche un'aggiunta di sfocatura come potete vedere la foto alla fine svanisce ma contemporaneamente sfuoca quindi seleziono la fotografia finale eccola qua innanzitutto evidenzio la proprietà opacità cliccando il tasto t e voglio che circa un secondo un secondo e mezzo dopo che la foto è cominciata quindi circa dieci e mezzo qua voglio che qui la foto cominci a scomparire quindi accendo l'orologio dell'opacità e circa un secondo dopo quindi avanzo fino a undici secondi e mezzo quasi dodici porto l'opacità a zero bene quindi la foto svanisce ma nello stesso momento deve anche sfuocare quindi ho bisogno di un effetto di sfocatura bene allora seleziono il livello vado nel menu effetti nella sezione blur and sharpen e prendo l'effetto di sfocatura il più rapido renderizzare questo fast blur bene e siccome devo mettere dei keyframe a questo effetto evidenzio l'effetto nella timeline quindi clicco col tasto destro su una proprietà dell'effetto reveal in timeline e devo mettere due keyframe alla proprietà blurriness eccola qui quindi mi allineo con il primo keyframe dell'opacità quindi go to keyframe time qui dove comincia la dissolvenza finale e voglio che la sfocatura in questo momento sia zero quindi lascio il valore così accendo l'orologio poi mi allineo col keyframe finale della dissolvenza go to keyframe time e qui voglio che anche se la fotografia non la vedo abbia una quantità di sfocatura facciamo una trentina di punti vediamo se può bastare ecco con l'effetto di sfocatura bisogna stare attenti al fatto che sul bordo l'effetto non funziona immediatamente si vede che manca qui sul bordo ecco per attivarlo anche sul bordo bisogna fare in modo che la proprietà repeat edge pixel sia anziché su off su on ed ecco che la sfocatura funziona anche sui bordi benissimo direi di riguardare tutto per controllare che tutto funzioni bene quindi la prima foto dopo tre secondi la seconda foto dopo altri tre secondi la terza e poi l'ultima che svanisce del tutto bene la prima parte dell'esercizio finisce qua nella seconda parte ci preoccuperemo dell'animazione dei titoli e quindi ci vediamo alla prossima ciao